Oggi non ho la voce oggi, non so come farò, gentili amici buonasera Oggi vi chiedo il massimo supporto che le corde vocali se andai in vacanza Però il gabibbo si riesce sempre a fare le papere Siamo di nuovo qui oggi con Temu, signori perché ho voluto prendere sempre dei gadget a occio di tutto e di più Ma soprattutto anche dei prodotti super economici delle versioni ben più costose di noti marchi presenti sull'Amazonia Ma non perdiamo tempo Perdiamo solo altra voce Signori Temu ovviamente sapete per chi ancora non conoscesse sto sito Vende a palate di quelle robe super economiche C'è di tutto e di più robe anche da un euro Di quelle strunzate intergalattiche che vi comprate anche perché sono genialate Che vi viene voglia di dire vabbè ma fatemi comprare tutto il catalogo Ma no, ma no, qua dentro aiuto Inoltre potete avere un ulteriore 50% di sconto su ordini da minimo 50 euro E anche un 90% sui prodotti selezionati in questo video Insomma vi invito a scaricare l'app per sfruttare tutti gli sconti disponibili Dovrebbe funzionare, guardate tutto in descrizione Comunque la spedizione nonostante sia dalla Cina ci mettono anche poco ad arrivare E potete anche fare i resi Penso che per questo video metteremo la versione per non udenti Mimata dal mimo, eccolo Lo metteremo in sovraimpressione E lo ringraziamo tanto per essersi offerto gratis Turbo, dov'è Turbo? Ecco Porco cango, se ne ha via anche scatolone Ma no, quanta roba Voi non avete visto niente perché ovviamente Chi è che fischia? Apriamo anche questo C'è l'amianto qua dentro Date un'occhiata ovviamente al catalogo Vi invito ad utilizzare anche il codice sconto Che speriamo funzioni questa volta in descrizione Anche 100 euro di buono Quando vi iscrivete per la prima volta Madonna, 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 Quanta roba Guardate c'è già una luce accesa da qua dentro Questa è rimasta accesa dalla Cina Ah ma qua dentro che si ha altre 45 mila Oh beh L'unica vera roba che non so cosa sia In caso è questo, un pacco nel pacco Oh no Signori partiamo col botto Questo, guardate qua Guardate pure che bella confezione Il mouse del fruttivendolo Chi che mi via a dire che questo è un mouse Che tirano do stramusoni Perché questa non è un mouse Questa è una soglia spiaggiata C'è anche una questione di protezione ambientale Delle specie ittiche Per favore Se non è normale Beh è fatto da Dio È uguale Vi voglio far rendere conto Di quanto sia fatto divinamente bene Plastichina anche Ah E tra l'altro signori Il ragazzo sui pulsanti Bellissimo Ha un tace in fila Anche molto premium Devo dire che il click È pure un bel click Sentite Silenziosissimo Ed è tace In teoria dovrebbe essere tace Quindi mo' adesso Madonna guarda la fessura Se vede gli ingranaggi dentro Però va bene Va bene È super fatto bene Ah non è bluetooth C'è il ricevitore marzo Con le batterie impestate Eccolo Quindi sul mac Non si può fare Una vostra Perché non c'è la porto USB Quella grossa Ma vabbè Dio de Dio Scusate passa questo Il convento Vai serve Le A A A 2 A A che modo è qua Eccolo là Funziona Signori Eccolo È anche molto bello Responsivo Tasto destro Funziona Voglio provare subito Lo scrolling Con il doppio trascinamento Signori Eccolo 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 Ne va Va Funziona Ma una volta al mese Ma funziona Devo dire Perfetto Andiamo avanti Io alternerei I prodotti Quelli da confrontare Costoso Versus economico A robe a caso Geniali Cioè guardate qua Per esempio Stiamo in tema Fruttivendola Ma voi vi rendete conto Che su Temu Trovate pure Delle robe Per taroccare I vostri Apple Watch Normali E renderli in ultra Cioè ci sono i case Protettivi Questo è un vero Apple Watch Voi lo potete mettere Applicate il case Eccolo qua E diventa Un ultra Guardate Ghiera Che ruota Perfetta E così sia La proteggente Sia fate i tarocconi Andiamo avanti Versione tarocca Super economica Delle casse JBL Questa si chiama TNG 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 E sta per Tieni e gioisci Gli assomiglia Tantissimo Signori Eccola qua Vedete Stesso design E' fatto uguale Praticamente C'è la catenella Questa se vi volete Impiccare O fare il San Bernardo Con un fiasco Sentiamo subito Come si Proviamo Che è successo Cioè Se alzo il volume C'è il tasto più Se alzo il volume Cambia brano Giuro Questi sono i bassi Ma questo sarebbe il subwoofer Cioè posso Fammi implodere Proprio Ho fatto un po' per te E un po' per la mia figlia Danciata Qualità di un citofono Ma con qualche basso Però è buono Quindi Per stare in tema audio Ci sono anche delle cuffie Poi arriviamo a delle genialate Che voi non avete idea Ma mi raccomando Supportate sempre questi video Ma anche Per un trapianto Di corde vocali Che sembrano a vista Un po' ricordano Quelle di Sony Le VH1000X Mona 4 Quelle che hanno Tutta la soppressione Del rumor attivo Una versione Molto simile Come design Però sono di Lenovo Sono comunque di marca Trovate anche robe di marca Su tema Ma veramente Sempre con degli sconti Sempre super economiche Dovrebbero E infatti Sono carinissime Adesso ho raggiunto La frequenza Dei delfini Potrei continuare così Guardate che belline Type C Tra l'altro Beh Oh No Questa adesso Giuro Giuro Questa si sente bene Questa però C'era scritto Che c'aveva La soppressata Rumor attiva Vedete che ha solo La soppressata Zio Beppi Vabbè stesso Solo perché sono comunque buone Apriamo i pacchi Misteriosi Se c'è un esplosivo Vabbè Qualche maniera bisogna Pur morire Poi attenzione Mi sa che c'è anche roba Che non ho ordinato io Ma qui un minco bocchi Aperti Pure gli altri membri Della produzione Avevano accesso All'account di Temu Questo È per farsi Le postazioni da gaming In luoghi inopportuni Signori La sagra Del cesso Benvenuti Alla cagata Illumination And now This is a special Volume of Disney Illumination This is Cheat Illumination È il caso di dire Una meraviglia Cos'è sta mer... Oh questo è bello Questo è bello Sempre a tema Luminosi Che c'è scienza Dove va Bergamo Quel pezzo lì Forse potrei fare meglio Richard Benson Eeeh Oggi Parleremo degli elfi Fate Eoni Gobboldi Eeeh Questa è una lampada L'effetto che farà Sarà meraviglioso Ne sono sicuro Come cazzo Ma è più complicata Di un mobile Ikea Ma come cazzo Questa lampada Fa un effetto Fantasmagorico Sul porco sul porco Sul porco del strevele Non lo fa solo sul porco Lo fa proprio sul muro Voi la connettete In culo Ve l'ha infilata in culo Fa luce? Ah non fa niente Ma come cazzo? Ah questa è la famosa luce Che non fa luce Questa è un'invenzione ottica Che arriva proprio dalla Cina È una cosa particolare La luce è buia Eccolo là Con lo studio spento Guarda che bea no? Già bea così Se ne fa anche una lampada Col gadget di prima Mettetela davanti al cesso Fate la disco parra Dentro al gabinetto Ma va cagala Andiamo avanti Mini doorbell Questo Anche qua Oh tutta roba che va a batteria Che va che è vostra sorella però Questo potrebbe essere La controparte economica Di un doorbell Magari Voi suonate qua C'è la videocamerina Incredibile che c'è già La batteria integrata Poi voi avete questo Doveva avere l'audio A due vie Catture l'immagine Quando viene premuto il pulsante Avete cloud storage Un sacco di figate Notifiche L'applicazione Addirittura è smart E poi c'è questo Che ha l'audio Proviamolo subito Che questa è la svolta Ah ma c'era il telecomando Della luce di prima Non l'avevo visto Allora Eh Altre batterie Ma che la vacca Scusate le vado a togliere dal cesso Un attimo Nel frattempo ci avevo sganciato Una bella renza Era un attimino Una camera a gas Però va bene Eccola qua No me sta a cambiare i led Nel muro Che sono le stesse frequenze Che la vacca Ma fai qualcosa almeno Oddio Per forza da davanti Devo puntarlo da davanti Il telecomando Aspetta Ah beh Allora si Eh beh La rivalutiamo Adesso merita Assoluta Scarichiamo assoluto L'applicazione Di questo robot No vabbè signore Ma sento Pidela che da qua È stato più semplice Del previsto Questa è l'istantanea Che ha catturato Ma signori Io posso suonare Il campanello Il pezzo di qua Va collegato Alla power bank E noi suonando il campanello Viene suoni del campanello Recupero dati video Stiamo costruendo un canale Criptato Addirittura A livello di Basta Ok E c'è il video Signori E non è neanche male Per essere un citofono La qualità è comunque Più alta del lordissimo Figata Rispondi Buonasera Un campanello Smart Addirittura C'è Questa è una figata Ma vedete che le trovate Le figate Le robe che funzionano Tenere premuto per parlare Oddio Sembra Sembra paranormal activity Adesso Madonna Rec Pronto 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 Salve Ma c'è la voce romotica No vabbè Si può scegliere Come modificare la voce Balli o caghi Eh salve Io sa C'avrei la cagarella Posso salire Si caghi addosso Questa è una simulazione Questo mi è piaciuto davvero Visto che me sento Con pie nella fossa Proseguiamo Con un massaggiatore Da culo Il sistema anti atomico qua Senti Senti come vibra tutto Vibro tutta Eh Questo in aereo Ah ma anche qua Ciao se vediamo Finito il video Per chi guarda tanto Al computer Ci sono degli occhiali Anche carucci Col filtro Anti luce blu Buonasera Ho appena fondato Una multinazionale Che si occupa di contro Mi lanciano la diffusione Delle tame Nelle famiglie Se qualcuno produce Poca cacca Noi veniamo a casa vostra A depositarvene un pochino Poi Chi ce lo dice Che filtrano la luce blu Eh Vrio blu Mi piace tu Ah ma io ho sbagliato Tutto prima Non erano le cuffie Lenovo Quella con la soppressione Del rumore Erano queste Queste Sono la vera Versione Clone Delle Sony Quelle ben più costose Con la soppressione Del rumore Eccole qua Ci assomigliano pure di più No dimmi che sono queste Le Sbarofon Ma la madonna Oh Dietro c'è il tasto Mod Non fa assolutamente niente E' finto Cos'è questa La palla che sale Le mie sono scese Ma questa sale Questa palla Sfida la gravità Perché è vuoto E' vuoto Do cazzo E' fuori controllo Mascheri Proseguiamo Signori Basta che subriupare La muffa qua dentro No vabbè Signori Un altro prodotto Confronto Costoso Versus Economico Abbiamo La Pencil 2 Identica C'ha anche la Scanalatura Ah per ricaricarla Quindi non ha la ricarica magnetica Ma c'ha la Tipo culo Ah si illumina C'ha anche lo stato della batteria Quindi pure meglio Come si fa Forse va configurata bluetooth Dobbiamo andare a importazione bluetooth Segui le instruction Guardate quella vera A sinistra Che ho scritto anche Mars Tra l'altro La parte sopra Di questa fake E' touch Vediamo il magnetismo Si Ma un c***o C'è scritto in realtà E' compatibile con l'iPad Pro Stata Tutti Tranne la 2069 Che non c'è qua Il mio La 2069 Pensai che è sfiga Beh confido che funzioni Però Peccato Mi era piaciuta tanto Ah questo Signore Attenzione Un altro Sbiancatore Dentale Questo lo girate Lo caricate a manovella Come funziona Il motore a scoppio No Lo aprite Ci mettete dentro Una batteria Che non ho Quelle piatte Vaffanculo Lo accendete E dopo domani Più o meno Sembrerete la Hunziker Preso roba a caso Solo per farvi capire Che trovate tutto Questo cos'è Un kit medico C'è l'icona di un gatto Questa è una stampante portatile Dentro C'avete la carta culo Vedete Voi ci rimettete La carta igienica Praticamente No è carta specifica Ovviamente No alle istruzioni No No dire Impettaio Luigi Passaggio 2 Disassemblala Impattala E distrudila In che senso Impattarla Ah no Era proibito farlo Ale Cassa Serve la sua applicazione Fan print La stampa divertente Oh ma è fatta pure bene Oh Più connessione Ma la trova Tranquillamente Oh ma sta roba Funzionano Cioè senza problemi Proviamo a stampare Stampa Eccola Sta già stampando È velocissima Che meraviglia Signori Ma questa è una bellissima idea Regalo Figata Poi si strappa Ed è fatta Santino di Jerry Scotti In 3 secondi Oh oggi abbiamo svoltato Fatemi sapere cosa ne pensate Commentate anche con il vostro prodotto preferito Ma non sono finiti No Il pirulo Il pidigozzo Questo è Talce già la batteria Dovrebbe fare una luce della madonna Beh Ma insomma Che bella questa ripresa Si vede proprio bene Signori è vero Fagiorno Fagiorno Questa luminosità Massimo Un po' meno Madonna 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 Psichedelico No Aiuto Sembra un film horror Lo so Oh signori Attenzione Attenzione Chi c'è? Ah No Marisa Marisa No Molto consigliata pure questa Basta Non le posso più Ma che è? Ah questa luce notturna da letto Porco cameto che fa Avanti in vrio Basta Stufo E lo appoggiate nel bordo Della porta Quando ci passate Si accende Sempre comodo Avere il tragitto nel bagno Poi è arrivata il cesso Si illumina il cesso Praticamente C'avete la regina Dice posta per te In casa Non poteva mancare Mega caricatore Per qualunque cosa Anche questa Sembra molto carina Molto fatta bene Potete regolare L'altezza Qua ci appoggiate Il telefunken Qua ci appoggiate L'orologio Per esempio Qua le cuffie Insomma Anche questo Per quello che costa Una figata Vediamo subito Se funziona Eccolo qua Perfetto Si è attaccato in carica Subito Te anche di qua Si può mettere in carica Anche qua Proviamo L'orologio qui Dove piante in mezzo Magari no Ok si accende Quindi va anche quello Troppo perfetto Signori ho un prodotto Inestimabile Tra le mie mani Perché questa è un'invenzione Questo vi fa capire L'ingegno umano Dove può arrivare E qua siamo a dei livelli Qua siamo a dei livelli Sappiamo qui Il magnete magnetico Chi l'avrebbe mai detto Signori guardate Questo è un magnete Che magnetizza E questa cosa è fenomenale Questo lo mettiamo all'asta Base d'asta Un milione e cinque Per concludere Concludo con un consiglio Per la casa Praticamente neanche Un muratore di Bergamo Fa un casino Della madonna Come il sottoscritto Qua pare che sia scioppà Il cartongesso Mi ritrovo Il cartongesso Dentro le mutande Da lì Preso il nome Il cartongesso Questa è una lampada Spiaggiante Se è così Non ce l'ho fanata bene Qualcosa mi fa pensare Che sia delicata È stupenda Ed è super premium È di vetro C'è anche il telecomando Vabbè ce l'aveva Ce l'aveva Ipnotizzante Fabia che va e viene Sembra ammaliare Dal deserto Del sare I cambelli Privi Di uno scopo Didattico Nella loro vita Oro scintillante Che luccica Come la mia dentiera E come il mio sorriso Concludiamo A risparmio energetico Accendiamo la luce Porco candel Spadosca Accendiamo questa Porco Per oggi ho finito Vi prego Sopportatemi Grazie per aver resistito All'ascolto Anche per ascolto E ci rivediamo Alla prossima Videapora Arrivo in ultrassuone Ciao 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 Ciao